Il soccorso non è più pronto in Italia. Una famiglia su due infatti ha difficoltà a raggiungere il pronto soccorso ospedaliero, un dato in aumento rispetto allo scorso anno. La notizia viene fuori dal report sui servizi di pubblica utilità dell'Istat. Le percentuali più elevate si evidenziano al sud e nelle isole. Le difficoltà più alte si registrano in Campania e Calabria. Ma non è solo il pronto soccorso a impensierire, anche farmacie e supermercati. E' un'Italia difficile quella che emerge dal rapporto Istat. Il report prende in esame anche anagrafe e poste, ma sono quelli che hanno a che fare con il diritto alla salute a preoccupare maggiormente. Oltre ai problemi per raggiungere le postazioni ospedaliere, infatti, ci sono per esempio le file d'attesa per i servizi sanitari. La metà degli italiani lamenta code agli sportelli delle ASL superiori ai 20 minuti, un dato che raggiunge i due terzi della popolazione nelle isole. C'è poi il dato delle farmacie. Il picco si raggiunge in Valle d'Aosta, dove un quarto della popolazione si lamenta. Ma molte difficoltà si registrano anche in Campania e Calabria.